Ciao a tutti, io sono Ambu ed eccoci qui in questo episodio di Trapped, ormai la via per il nostro castello che fa colare Glovestone. Boh, non so come definirla questa cosa, è davvero una strana costruzione questa roba qui. Ci manca una sola torcia di Redstone per poter finalmente entrare al suo interno e scoprire i misteri misteriosi di questa mappa e non perdiamo tempo, incamminiamoci nella parte sinistra di questa mappa per recuperare l'ultima torcia di Redstone. Redstone, andiamo un po', mi sa che mi fa andare verso la baia, la baia che abbaia, ok battuta pessima sicuramente, un sacco di gente penserà che ho dei problemi, effettivamente potrei avere dei problemi, me lo dico io stesso dopo questa battuta che non faceva assolutamente ridere, ma sono solito a questo tipo di battute che non fanno ridere, potete chiederlo a chi sta con me solitamente in TeamSpeak, che sono un maestro in queste battute. Andiamo un po' avanti con questa Glovestone, dove ci porterà, oddio, cos'è, un galeone? Sa proprio di sì, che figo, le bandiere insomma non sono il massimo, cioè le bandiere, le vele, che cazzo dico le bandiere, le vele non sono il massimo, però una gran figata sto coso, eh sì, checkpoint, guarda io dormo perché non si sa mai, però potrei anche evitare. Anzi sì, evitiamo, chi se ne frega. Su, 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 la mappa di prima non mi è successo niente, qua che cos'è questa roba cos'è? Ah no, fammi ispezionare un attimo. Cos'è tutta questa roba? Mio Dio. Oh mio Dio. Boh, dico solo questo ragazzi, non so cosa pensare di questa roba che vediamo qui sotto, e non so cosa pensare di questo bug dell'acqua, ora che ci penso e me lo vedo davanti agli occhi. Ma entriamo all'interno della nostra nave, vediamo cosa ci nasconde. Ed eccoci qui, i marinai tutti a bordo, ecco pure il tramonto, attenzione, è una roba molto figa. Una cassa vuota, buono buono per iniziare. Qui potremmo fare la scena di Titanic. Ok, basta, stavo già dando troppo, stavo già mettendo troppo in mostra le mie doti canore di Titanic. Vediamo un po' qui, armory, ok, spostiamoci di qua. Anzi, vabbè dai, già che abbiamo guardato il cartello esploriamo pure, vediamo cosa c'è. C'è altra roba dentro qua. ASD, una cassa di TNT. Qua c'è da fare attenzione, mi sa. Mi sa che c'è da fare molta attenzione. Qua cos'è tutto sto macello che c'è? Una cassa, un'altra TNT, questo che c'è da spaventarsi qui. Dei letti, molto carini devo dire. Una cassa nascosta, vuota anche questo, mi devo incazzare tutto vuoto qui. Non c'è niente. Ma è pieno di roba invece. E' roba messa a casa o roba che mi potrà servire? Boh, vabbè, lo scopriremo. Qui un'altra cassa, un'altra cassa. Sicuro tutte queste case sono messe per trollare, così uno dice, cazzo devo aprire la cassa. Poi dice, vabbè, in nessuna cassa c'è niente, non ne apro nessuna. E si perde il lapislazzulo, sicuro. Qua dove mi porto? No, io mi perderò dentro questo posto. Perché creano queste cose? Dove sono finito? Dove sono? Storage. Qui esco fuori da dove ero entrato. Ok, semplicemente hanno la doppia via per salire, va benissimo. Ok, così già ci capiamo un po' meglio. Ah! Ah, ok. Molto, molto easy, allora. Poi devo rientrare dentro, in realtà, perché mi sono perso una cosa da controllare. Questo qua. Poiché palle, dovrò controllare pure tutte le vele, perché sicuro mi ha nascosto dei lapislazzuli, io lo so. Sottofondo probabilmente potreste sentire delle campane, ebbene sì, sono le sette di sera, quindi suonano le campane. No, no, la mia torcia di redstone, ridando. Ok. Vediamo qui. Dei robi musicali. La solita cesta. Ok, apriamo tutto per vedere se c'è qualcosa. Lana. Lana che posso rompere, ricordiamo. Posso rompere per non trovare un bel niente. E vabbè. Saliamo, a quanto pare, questo era solo per farmi perdere tempo e farmi incazzare. Molto probabilmente. Ora. Siamo usciti fuori. Vediamo un po' qua sopra cosa c'è. Nel... Nel... Eh, 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 eh. Queste simpatiche pressor plate. Attenzione qua, nelle librerie. Non sembra esserci nulla di strano nascosto, nemmeno nel quadro. Hm, lana. Lana che in teoria io potrei rompere tutta. E rompiamola, su. E rompiamola, su. Cosa dovrei trovare in questa diavolo di nave? che l'ho capito io ok qua sotto vedo che c'è tutte queste cose ma come faccio ad entrare? ma qua è meglio scendere normalmente si vero annuncia un episodio di quelli molto molto boh però attenzione qui c'è questo passaggio sì 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 c'è un passaggio fermi tutti devo risalire a bordo salga a bordo vediamo un po' devo entrare dentro qui ok sto passando di qua qui dovrebbe esserci una scaletta che non esiste ah no Warehouse forse non l'avevo vista oddio non c'è mai niente in questo posto ecco ecco mi sa che era lì l'uscita intanto controlliamo qua niente solite case senza niente che non posso aprire ok ok ragazzi eccoci dopo ore ore di di cammino in questa mappa oddio 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 mio le stanze di lapislazzuli che bel materiale il lapislazzulo insomma partiamo con vediamo vediamo se mi metto qua cosa succede niente ah no si apre a tempo ok tac corri nuota 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 ma chi cazzo si apre due volte a quanto pare controlliamo se c'è qualche cassa nascosta qua di lato vediamo 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 qua qua cos'è oh è solo terra eeeh buo riproviamoci speriamo di essere più fortunati questa volta ora spacco tutta sta stanza e mi riempio di lapislazzuli e vinco lo score di tutta la mano ero salito sul coso spero di sì no riapriti ti prego prima ti sei aperta due volte riapriti riapriti solo per me col cazzo che si è grazie a tu